Hakuna Matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro diciamo 89, siamo tornati qua su un nuovo video di Broostrar Mi raccomando subito un bel pollicione in su per il vostro diciamo 89 Sto utilizzando Tara Sto utilizzando Tara e come vi stavo dicendo l'altra volta ha 2300 trofei Ho 150 di energia da dare a un brawler Quindi andiamo nel negozio e utilizzerei gli ultimi 80 L'ultime 80, che ogni tanto mi perdo le casse ragazzi perché sono messe male secondo me, poi le perdo Andiamo ad aprire questo qua, magari ci da qualcosa per Tara? Ci dai qualcosina per Tara? Jesse, va bene, io Jesse l'apprezzo Ok, sei gemme Non riesco, quindi riesco a prendermi questa L'altra volta è una riuscita, una epica Prendendo una questa qua, se c'ho fortunissima Tara, va bene Guarda nel dubbio nella cassa più, una di quelle più brutte tra virgolette Ho preso quello che mi serviva Quindi andiamo qua Tara, vedi che poi il gioco lo fa chiaramente apposta Lo fa perché sulle casse quelle più piccoline mi dai quello che mi serve Su quelle più grandi non me lo dai Va bene Allora, dovrei fare le altre Dovrei fare le sopravvivenze e dovrei fare sopravvivenza a quell'altra Sinceramente non mi va di utilizzare Tara per andare lì Mi sembra abbastanza stupido perché secondo me non è molto da sopravvivenza insomma Tara Poi magari mi sbaglio, però va portata un po' più su Insomma non è tank Aia che bot che fu preso Mamma mia che bot che fu preso Comunque fa danno Comunque fa veramente veramente danno ragazzi Ma fa danno, loro fanno un danno catastrofico Sono tutti player da molto lontano Non che io non lo sia, però loro di più Devi che danno lo faccio anch'io Non male che mi hai lanciato via Qui sarà difficile da portare a casa Perché quello fa come gli pare Cioè questa è la mappa sua Altro che Questa è la mappa sua Benissimo Potrei utilizzarlo Ma non è questo il caso di utilizzarlo In sincerità vi dico Ok non ci sono riuscito Purtroppo Fa niente Devo ancora Calibrare molto bene Comunque Io quello avrei evitato Sostanzialmente di andare a perdere Quei trofei Anche perché ci abbiamo Jesse Che Non so se si chiama Jesse Non mi ricordo bene Che non sta facendo niente Mamma mia i danni ragazzi Mamma mia ragazzi Loro adesso si chiudono E non ci fanno fare più niente Qui la ultima è necessaria Al 100% Anche perché vedi quanto danno gli fa Ma non attaccano i miei Bravo Quella torretta è fondamentale Benissimo ragazzi Qualcosa Qualcosa abbiamo ripreso eh Qualcosa abbiamo ripreso Ok io Io ho rischiato qui Ai 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 Inutile rischiare Via via ragazzotti Via Via Dai che gli facciamo danno Via Ok Questa è stata difficile eh Questa è stata seriamente Seriamente difficile ragazzi Molto molto difficile Dai mi manca poco Per portare su lei Speriamo che Giochiamo ancora No perché c'è uno Che è molto molto debole Secondo me in squadra Era quella con la torretta Quanto mi manca Poco regà Ce la potremmo anche fare Oggi ad arrivare a 2003 Dipende tantissimo Da chi Ci rankano vicino eh Ok Ok c'è Murtis C'è Murtis Murtis Pure Poi abbiamo Pam Che non è molto potenziata In realtà Danni a profusione atomica Se Pam mi dava Una manina Ok Murtis 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 Ah forse quando muoio Perde di intensità Cioè non posso fare Ok Murtis Giustamente Esce dal buscetto E mi fa Difficile questa ragazzi Difficile Poi non so se gli altri Stanno giocando un po' peggio O meglio Non lo so Ok C'è Penny Che sta giocando Abbastanza bene Questa ulti Mi sembra una ulti Alla Marika Sinceramente Che Marika Non è capace Assolutamente Di attare Dai Porca miseria Porca Bravo L'ha fatto fuori L'importante è quello Devo ancora capire bene Ragazzi eh Devo ancora capire bene Quanto in realtà Io abbia Di danno Effettivo Faccio così 21 Mortis Mortis Se mi viene addosso Ragazzi Mi fa solo che E vai Mortis Dai ragazzi 19 Dai 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 Dobbiamo attaccare adesso Dobbiamo attaccare adesso Ragazzi Brutta ulti Bruttissima Ok Uuu Baby Benissimo C'evo anche la ultima E' stata difficile E' stata difficile Questa partita pure Però dai Lo faccio pure Per fare un po' di Invito la squadra Kid Mi vuoi far perdere Kid Io vengo con te Kid Io vengo con te Chi stiamo? Kid E Orange Killer Non so chi cosa sia Ora Skrillers Non lo so Speriamo che Mi fanno fare Bella No Bellaci niente Bella C'è la squadra Troppi menti In questo evento Che significa Troppi Troppi Sono pronto Dai Su 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 Qui sto Col clan No Che poi lo aprirò Solamente per i sub Su Twitch Già l'ho detto Fino adesso stavo vincendo Guarda vado con il mio Team Sicuramente Con il mio Clan Qualche sia La squadra La cosa E vado a perdere Perché mi Mi ranka con persone Pazzesche Io sono sicuro Di questo Anche perché Lo vedo già da subito Che la cosa Non è tanto Propositiva Ve lo dico Guarda le ulti Che sta sparando Quello stronzo E non sbaglia Un colpo Non sta sbagliando Un colpo Quindi questa Sicuro andiamo a perderla E io quitto E ritorno A giocare Per i cavoletti Miei Anche perché Non ci stanno Morendo Per un soffio Lascio così E non sono riuscito A portarmelo dietro Io questo Non perlisco Che cosa Sto sbagliando Benissimo Ragazzi Benissimo Ragazzi Vedo un barlume Di speranza Lo vedo Lo vedo Lo vedo Lo vedo Questo piccolo Barlume Aia quel mortaio Va tolto Ragazzi Aia Toglietemi quel mortaio C'avete tutto quanto Per togliere quel mortaio Non me lo stanno togliendo Dai 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 Primo Primo devi morire Non è che puoi Fare quello che vuoi E invece fa quello che vuole Primo Lascio così Oh Vaffanello Va Una bella urtina Vai Vai Brock 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 Mi sa che Può essere che è maxato 30 secondi Primo 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 Ragazzi Primo 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 Vatalo fuori 14 13 Ci siamo rimasti Invariati Ho la ulti Niente ragazzi Niente Ci ho provato Qui è colpa mia Non posso dire niente a nessuno Niente Primo Primo ci delizia Con Con i suoi attacchi 15 Oh 19 19 Porca Mignotta Che cosa ho recuperato I miei danni Ho recuperato Ho recuperato Assolutamente I miei danni Perché ho recuperato I miei danni Però Ok Sicuramente vogliono Cambiare Vogliono cambiare Forse qualcosa Non ne ho idea C'è oltre che Scrivere cavolo Non lo so Ok Avemo partorito Avemo partorito Eh Avemo partorito Madonna Santissima Ragazzi Per quel tempo Ok Aia Aia Avevo brutto Avevo brutto Avevo veramente brutto Avevo tragica Anzi Oddio Avevo un po' meglio Adesso che sono morti Tutti quanti E Sono sincero La ulti ce l'ho A metà Ok Quel mortaio Lì dietro Sì Può essere utile Ma dato che stiamo Attaccando Non so Effettivamente Quanto Possa essere utile Al nostro scopo Vai Vai Stecca Vai Tiragli le stecche Facciamo così Ah Vedi che allora Incomincio a capire Allora vedi che Incomincio a capire Attenzione Mortis Benissimo E niente Mortis Se la gira E vieni Mortis Vieni che ti faccio girare Come se fossi una bambola 36 di vita Sei illegale Sei Veramente una persona Orribile Sappilo 36 di vita Sei veramente Veramente una persona Orribile Ok Quello l'ho avvicinato Un pochetto Non so Se ho fatto bene Se ho fatto male Ok La rilancia La rilancia Mortis è andato in range Mortis è impazzito Ragazzi Quando la gente impazzisce Quello è il momento Che chiaramente Devi perdere Quello è chiaramente Il momento Che devi perdere Ok Danni e dolore Come se non ci fossero Romani Nooo Si 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 Così 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 Ma che vuoi da me Ma vedi a andare via Ma vedi a andare via Vai Vai via Vai Ma che vuoi Benissimo Benissimo Se non sbaglio Se non sbaglio Posso sblocchiare Vediamo un po' Oh yes Baby Prendo E li do Su Tara Ok Punti energia Per Tara Vado su Brawler Vado su Tara E la miglioro Di livello 6 E voglio provarla Di livello 6 E la voglio provare Di livello 6 Sempre se questo qua Che non so neanche chi sia Metta maledettamente pronto Due ore per mettere pronto Va bene Vediamo un po' Come sta messo Come sta messo Questo player Con un livello in più Secondo me gli cambia Un botto ragazzi Un botto proprio Stanno proprio A propulsione Sto prendendo Basta che Mamma mia Mamma mia Mamma mia Che brutta roba Qua basta Un bel missiletto Regà Sì Vabbè De tutto Regà Mi è arrivato di tutto Mi è arrivato di tutto Addosso Mortai I cose Prezzemuli Finocchi Ah no Vabbè ragazzi Quel mortaio È veramente Di un'illegalità Pazzesca Ma ulti Io sto facendo Zigulino Ziguletto E si sono E si sono cattivi E si sono cattivi E sicuramente Ci hanno la cattiveria Di un po' Ah Sta là dietro Sta là dietro Eh A meno che Non mettiamo Il nostro Mortaio Infatti Non so Kid Come sta messo Con il mortaio Perché pure io In realtà E vabbè Stecca Tira la mano Ok Perfetto Mamma mia Regà Come Come Ci sono andato Vicino Alla morte La mia ultima Mi piace Un botto Aia Mamma mia Questa gliel'ho regalata E sono stato un po' Stupido Infatti pure noi Abbiamo il mortaio Dietro Non capisco perché Infatti Dobbiamo starcene indietro Dobbiamo starcene indietro Assolutamente Facci qua Ok Eh Brutta Brutta Storia Brutta Storia Bruttissima A meno che Stecca Non ci abbia Una ulti Una cosa Siamo destinati A perderla Questa qua Ok No Ho fatto la cazzata io Ho fatto la cazzata io Eh ho fatto la cazzata io Ragazzi Me ne prendo tutte le colpe Me ne prendo tutte le colpe Eh vabbè Dai è andata È andata così È andata così È andata così È andata così Va bene Va bene Allora signorotti Io spero che l'appuntamento di oggi Vi sia piaciuto Se fosse così mi raccomando Pollice in su Commentate Condividete Se non siete iscritti Iscrivetevi Al prossimo appuntamento Il vostro 189 Brock non mi è morto Veramente È una cazzata Potevo ridare l'urti Assolutamente È andata così mi raccomando il vostro 189 È andata così mi raccomando il vostro 189